Musica Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il Tg Serale di Antena Sud 85. In apertura parliamo di cronaca giudiziaria. Erano stati denunciati per il sequestro di un francavillese che secondo la difesa si era inventato tutto. Il giudice assolve due uomini di Erchie. Nel 2010 raccontò di essere stato sequestrato, malmenato e derubato da una banda di quattro uomini nei pressi della vecchia stazione di Avetrana. Due di loro, identificati ed entrambi residenti ad Erchie e accusati pure di estorsione, hanno rischiato come la richiesta del PM 4 anni e 6 mesi di reclusione. Invece a distanza di 11 anni sono stati assolti. Questo perché, come sentenziato dal giudice del Tribunale di Taranto, il denunciante, un uomo di Francavilla Fontana, si era inventato tutto. Non ci fu insomma alcun sequestro di persona, alcun furto di auto e nessun tentativo di estorsione. I due imputati, difesi dall'avvocato Michele Iaia, sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. In attesa delle motivazioni, sembra quindi aver prevalso la linea difensiva, ovvero che la presunta vittima avesse in realtà fornito dichiarazioni falsi e mendaci e non fosse quindi attendibile. Così l'avrebbe pensata pure il giudice, imputati assolti dopo 11 anni. Ancora cronaca, cadavere corificato in un terreno di Casarano, risolto in parte il giallo. Si tratterebbe di una donna straniera di mezza età che era stata ricoverata in ospedale questa estate. È stata riconosciuta grazie ad un braccialetto in plastica con le sue generalità e servizio. Risolto il giallo della donna trovata cadavere in un terreno privato nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento ex Filanto, incontrata Formica. È stato un uomo proprietario della zona a fare la macabra scoperta venerdì mattina ad allertare i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della compagnia di Casarano e codivati dai colleghi del comando provinciale di Lecce. Il cadavere era in uno stato di corificazione prossimo alla mummificazione. Accanto al cadavere un braccialetto in plastica di quelli che si usano negli ospedali per scriverci il nome del paziente. Una scritta spiadita che però i carabinieri sono riusciti a decifrare e ad individuare l'identità della malcapitata. Si tratta di una donna di mezza età straniera che nei mesi estivi era stata ricoverata in ospedale e poi dimessa. Ma restano ancora alcuni punti da chiarire. L'uomo non si recava in quel terreno da diversi mesi, quindi impossibile sapere da quanto tempo il corpo si trovasse lì. La corificazione è un processo che si verifica di solito quando i cadaveri sono chiusi in casse di piombo o zinco. La scarsa ossigenazione infatti ne rallenta la putrefazione. E il corpo di quella donna era nudo, adagiato su dei vestiti. Se fosse rimasto esposto a lungo sotto l'intemperia e nell'umidità della terra sarebbe stato improbabile trovare la salma così integra. Il corpo si trova ora presso la camera mortuaria dell'ospedale Vitofazzi di Lecce per l'esame otoptico. Da una prima ispezione il medico legale Alberto Tortorella avrebbe escluso segni di violenza. Tenta di accoltellare un controllore sul bus, accade a Taranto i particolari nel servizio. Aggredito un controllore del Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, l'episodio è avvenuto a bordo di un autobus sulla linea Carosino-Grottaglie. L'aggressore avrebbe prima lanciato addosso alla vittima il biglietto vidimato e poi avrebbe tentato di accoltellarla. Il controllore sarebbe riuscito a schivare i due fendenti sferrati e pertanto non ha subito fortunatamente conseguenze. È scattata la denuncia supportata dalle testimonianze raccolte e sta indagando la Polizia di Stato per fare piena luce su quanto accaduto. Non si è fatta attendere la reazione dei sindacati di categoria dei trasporti. CGL, CISL e Will sottolineano che occorre ritrovare serenità nel lavoro. Chi è impegnato sulle linee a stretto contatto con l'utenza è sempre meno garantito in relazione non solo alla propria incolumità, ma anche al riconoscimento salariale inversamente proporzionale rispetto a responsabilità e rischi quotidiani. Invitano poi i dirigenti aziendali ad inserire all'ordine del giorno questa situazione e infine rinnovano la richiesta di convocazione al prefetto e al questore di Taranto per affrontare e dirimere questo argomento congiuntamente alle aziende del trasporto pubblico locale del territorio tarantino. Ed ora apriamo la pagina politica e parliamo della vicenda amministrativa al comune di Taranto. Il PD del capoluogo Ionico fa quadrato attorno a Rinaldo Melucci. Incontro tra sindaco, sciente e dirigenti presso la sede provinciale del partito. Lunedì manifestazione di sostegno all'ormai ex primo cittadino. Il PD di Tarra Ionica fa quadrato attorno a Rinaldo Melucci gli conferma il pieno sostegno dopo la raccolta di firme che ha causato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nella serata di venerdì 19 si è tenuta nella sede del Partito Democratico di Via Principe Amedeo una vertice al quale hanno partecipato il commissario provinciale Nicolo Dati, il sindaco uscente Rinaldo Melucci, dirigenti consiglieri comunali uscenti, rappresentanti dei circoli. Nel corso dell'incontro è stata esaminata la situazione politica. Il PD, come aveva preannunciato dati durante l'intervista della settimana con il nostro direttore editoriale Pierangelo Puzzolu, ha deciso di avviare una pubblica campagna per spiegare alla gente quelli che secondo i DEM sono i reali motivi dello scioglimento. Si parte con una prima manifestazione a sostegno lunedì pomeriggio alle 17.30 in Via Mignogna. Sarà l'abbraccio dei sostenitori a Rinaldo Melucci, alla quale parteciperanno. Oltre al primo cittadino uscente a Odati, anche Francesco Boccia, già ministro degli affari regionali, è in passato presidente dell'organo straordinario di liquidazione a Taranto dopo il dissesto. Arriveranno anche altri dirigenti nazionali e regionali. Una mobilitazione che vede impegnato anche il presidente della regione, Michele Miliano, che ha già esternato la sua solidarietà a Melucci. Intanto si attende la nomina del commissario che gestirà a Taranto fino alle elezioni. La scelta del Ministero dell'Interno dovrebbe avvenire tra le giornate di lunedì e martedì. Non sarà una figura limitata all'ordinaria amministrazione, ma avrà pieni poteri. Ancora politica, questa volta però ci spostiamo nell'Assalento. È una polemica tra Gemmato ed Emiliano. Sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Onorevole, quando si parla di riorganizzazione del partito in Puglia, cosa intendete? Fratelli d'Italia, in un momento social, è un partito vero e reale, strutturato sul territorio. Essere partito reale significa essere partito di territorio, significa incontrare questa sera tutti i nostri iscritti, simpatizzanti, militanti, sindaci, dirigenti, eletti di Fratelli d'Italia, proprio per metabolizzare insieme un'idea di futuro dell'Italia che parta dal basso, dal confronto diretto e che non viva le freddezze della comunicazione social che purtroppo ha degli aspetti positivi e negativi. Noi cerchiamo di declinare la positività in tutte e due le formule. Il centro-destra ha perso un po' di smalto in Puglia anche a causa di quelli che sono i movimenti civici e il trasformismo che è evidente nella nostra regione? Dice bene, purtroppo il trasformismo è la vera malattia in Puglia della politica. Noi viviamo, e non abbiamo difficoltà a dirlo, un'autentica sciagura che è Michele D'Emiliano, che è tutto e il contrario di tutto. In maniera camaleontica attira a sé classi dirigenti politiche con la promessa di prebende, di incarichi. Noi cerchiamo di rappresentare un'altra politica, che è la politica del confronto, della linearità che il nostro leader Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia cercano di interpretare fino in fondo. Chi vota noi sa che cosa vota. Vota un programma, vota una classe dirigente e vota una coalizione. Chi vota oggi questi movimenti civici, ripeto, vota un po' tutto e il contrario di tutto e immagino che questo abbia un impatto negativo poi sulla proposizione politica e sulla produzione politica. Ed ora ascoltiamo nel prossimo servizio la risposta di Massimo Cassano che risponde all'Ollo Brigida e Gemmato in merito al trasformismo politico. Loro hanno governato con zero risultati. Presidente, proprio in queste ore l'Onorevole Lollo Brigida e l'Onorevole Gemmato hanno fatto una critica alla politica del trasformismo regionale, parlando dei movimenti civici come il male della politica regionale, emblema del reale trasformismo. Ecco, lei cosa ne pensa? Beh, non posso che dire che sbagliano quando ritengono di essere i proprietari di una verità che poi abbiamo visto nel passato hanno dimostrato esattamente l'opposto. Hanno governato vari governi, soprattutto di centro-destra, risultati come sappiamo non ce ne sono stati. Il civismo nasce proprio per la crisi dei partiti, che non sanno dare segnali e soprattutto chi rappresenta i partiti si chiude e cerca di allontanare. Io credo che con la collaborazione e con la discussione anche con i partiti si possano raggiungere gli obiettivi importanti e gli obiettivi principali che sono quelli del bene comune, del bene dei cittadini nel trovare occupazione. Ecco, io credo che i partiti e i movimenti civici debbano discutere e parlare per raggiungere quegli risultati. Noi facciamo politica per dare risultati ai cittadini di questa regione e di questa nazione, non per fare partite personali che non servono a nulla. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Taranto e parliamo del sovraffollamento nel carcere. Il recente focolaio Covid e la grave situazione di sovraffollamento, la casa circondariale di Taranto torna al centro dell'attenzione. Sempre più difficili le condizioni di vita dei detenuti, oltre 600 quelli attualmente ospitati, ovvero quasi il doppio della capienza massima. Sono stati questi i temi di un incontro promosso dalla Camera Penale di Taranto e dall'Associazione Antigone che ha presentato il rapporto sulle carceri italiane, alla presenza di Sonia Fiorentino, reggente della casa circondariale Tarantina e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Penale di Taranto, Benedetto Ruberto. In particolare il sovraffollamento, la denuncia forte del presidente della Camera Penale di Taranto, l'Avvocato Gianluca Mongelli, un nuovo plesso già pronto ma inutilizzato a causa della burocrazia. Guardi, abbiamo scoperto che c'è un nuovo plesso costruito e fruibile nel carcere di Taranto che non viene utilizzato per questioni burocratiche e quindi anche sotto questo punto di vista noi reclamiamo con forza l'intervento della politica perché soltanto la politica in questo momento i parlamentari, i consiglieri regionali possono intervenire per questo grave disastro. Inoltre auspichiamo a livello legislativo dei provvedimenti ovviamente più favorevoli per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione perché dobbiamo passare dalla visione carcerocentrica ad una visione della personalità del condannato e quindi ad andare a individualizzare le pene anche sulla base del comportamento dei condannati. La Puglia ha molti istituti penitenziari e la maggior parte sono tutti affollati. Il carcere di Taranto in particolare. Abbiamo un carcere che potrebbe ospitare la capienza regolamentare di 300 persone e ce ne sono oltre 600. Questo è chiaramente un problema. L'evento è stato organizzato da Maria Teresa Trenta e moderato da Nicoletta Siliberti dell'Associazione Antigone. Ed ora le notizie in breve dal capoluogo Ionico. Torna la festa del volontariato 2020-2021 che si svilupperà in due giornate, una a Martina Franca ed una per la prima volta a Crispiano. La manifestazione organizzata dal CSV Taranto con il coordinamento associazioni di volontariato di Martina Franca si avvale del patrocinio e della collaborazione dell'assessorato e servizi alla persona e pari opportunità del comune di Martina. Quest'anno il movimento partecipativo, giunto alla sua sesta edizione, si arricchisce del patrocinio e della collaborazione dell'assessorato alla cultura e servizi sociali e pari opportunità con delega allo spettacolo del comune di Crispiano. Così il primo appuntamento è per l'intera giornata di domenica 21 novembre, dalle 8.30 alle 22 nel villaggio del fanciullo di Martina Franca. Sarà poi la seconda giornata a Crispiano, alle 18 di mercoledì 24 novembre, ad ospitare la seconda tappa della festa del volontariato. Il Martà di Taranto ospita gli studenti di Bari e Taranto, un museo senza barriere, ricco di storia e di emozioni. Tutto questo appunto è stato brillantemente superato grazie alla tenacia dei giovani operatori della cooperativa all'integrazione di Lecce, che ha organizzato una visita guidata, un luogo accessibile in carrozzine con la possibilità di far vivere a tutti le stesse emozioni ed opportunità, grazie a divertenti ed interessanti attività inclusive, ad un percorso tattile per le disabilità visive e al linguaggio l'IS dell'interprete Fabiana De Simone, perché ha un deficit uditivo. Il tavolo Formazione, Ricerca e Lavoro si è riunito alla presenza del prefetto di Taranto per completare l'iter di approvazione dello statuto della Fondazione Universitaria Archita, con l'obiettivo di costruire una precisa identità dell'offerta universitaria collegandola alla ricerca e alle esigenze lavorative attuali e future del territorio. Inoltre è già pronta la Convenzione per la Scuola di Medicina, che sarà firmata dalla Regione Puglia nei prossimi giorni, a renderlo noto il senatore Mario Turco. Avviso pubblico a Montegliasi per la nuova erogazione dei buoni Covid-19. Possono presentare domanda a tutti i cittadini in possesso di alcuni requisiti, ovvero essere residenti nel comune e trovarsi in una situazione di difficoltà dovuta ai gravi effetti economici e sociali derivanti dall'epidemia Covid-19 da indicare nel modulo di domanda. L'istanza dovrà essere presentata entro le ore 12 del 30 novembre prossimo. Si è svolta a Taranto la giornata dedicata alla Virgo Fidelis. Il servizio. Celebrata a Taranto nella Cattedrale di San Cataldo, nella città vecchia, alla ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei Carabinieri. Alla messa, presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Filippo Santoro, hanno presenziato il prefetto Demetrio Martino, il comandante del Comando Marittimo Sud, l'ammiraglio Salvatore Vitiello, il sindaco Melucci, il presidente della provincia Gugliotti ed altre autorità civili e militari del capologo Ionico, una rappresentanza di carabinieri della provincia di Taranto e di loro commiditori in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La Virgo Fidelis è ispirata alla fedeltà, segno identificativo dei carabinieri, come caratteristica dell'istituzione il cui motto è, nei secoli, fedele. La ricorrenza venne ufficialmente proclamata nel dopoguerra da Papa Pio XII. La data della celebrazione della festa è il 21 novembre, quest'anno a Taranto, anticipata di un giorno dal nuovo comandante, il colonnello Gaspare Giardelli, per evitare la concomitanza con la domenica. La suggestiva commemorazione è stata come sempre l'occasione per ricordare e celebrare tutti i caduti dell'arma. E proprio nel giorno della celebrazione della Virgo Fidelis, i carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno posto in essere su tutto il territorio cittadino un imponente presidio di uomini e mezzi, attuando diversi posti di blocco e numerosi controlli. Torniamo in provincia di Brindisi, ci spostiamo ad Ostuni, dove l'assessore ai lavori pubblici si è dimesso per andare a ricoprire il ruolo di consigliere comunale, i particolari nel servizio. Ha presentato le dimissioni nella giornata di venerdì 19 novembre, Giuseppe Francioso, assessore alle opere pubbliche al comune di Ostuni, e mercoledì prossimo per lui si apriranno le porte al Consiglio Comunale, al posto di Elio Spennati, noto e stimato cardiologo ostunese, scomparso prematuramente qualche settimana fa. Sono stati due anni e mezzo di intenso lavoro, ha scritto Francioso nella lettera di dimissioni, che hanno rappresentato per me motivo di crescita umana e professionale. Sono stati, come ho scritto nella mia lettera di dimissioni, due anni e mezzo pieni di entusiasmo, di voglia di fare, voglia di trasformare la città. Come dicevi tu, molti progetti sono stati avviati, altri saranno avviati, insomma, Ostuni beneficerà del mio impegno, comunque dell'impegno in generale dell'amministrazione anche nei prossimi anni. Ci sono tante attività che partiranno a breve. Questo poi il commento del sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, che ha rimarcato il legame umano tra Spennati e Francioso. Oggi sarebbe stato il compleanno di Elio Spennati e oggi Giuseppe ha rassegnato le sue dimissioni per andare a occupare il posto in Consiglio Comunale, che è stato quello di Elio, all'interno del gruppo. Per Ostuni è una scelta nata all'interno del gruppo, che è una scelta fatta davvero con consentimento e col cuore, che in politica devono sempre trovare spazio e ospitalità. Restiamo a Brindisi, in particolare ci spostiamo questa volta nel capoluogo, dove ieri si è svolto alla conferenza stampa di bilancio del Salone Nautico del Mare. È stata fissata anche la data per la nuova edizione particolare. Il Comune di Brindisi, la Camera di Commercio, l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, l'organizzatore e il distretto della Nautica hanno tracciato il bilancio della SNIM edizione 2021, un'edizione tra le più riuscite, che ha visto 20.000 visitatori e 150 espositori. Ed è ora già di pensare all'edizione 2021, come dichiarato ai microfoni di Antenna Sud dall'organizzatore Giuseppe Meo. È stata un'edizione importante, sia per le presenze in termini di visitatori, ma anche di esposizione, con affari di grande rilievo fatti dalle nostre aziende. Questo è il risultato migliore dell'evento. Anche come marketing territoriale, perché abbiamo portato in città tantissima gente, e la dimostrazione sta nel fatto che nasce una grande sinergia con le istituzioni, compreso l'istituzione regionale. Stiamo già lavorando con Confindustria Nautica per confermare la partnership, che per noi diventa fondamentale, e perché no, anche istituire un tavolo tecnico sul quale lavorare tutti insieme. Importanza rilevante nel corso del Salone Nautico. Hanno rivestito i convegni durante i quali si è dibattuto sull'importanza del settore nautico, sulla possibilità ulteriore di sviluppo dello stesso settore. Un settore che ha retto, nonostante la pandemia, tutti gli espositori sono riusciti a fare business. In questa edizione, un binomio importante, numero di visitatori e business, che segnano il grande successo completo e totale dell'edizione 2021, come è dichiarato da Giuseppe Danese. In questa occasione 2021 dello SNIM abbiamo fortunatamente raggiunto tutti e due i risultati abbondantemente, specie dalla parte degli espositori, i quali hanno tranquillamente potuto vendere le proprie imbarcazioni, registrando un overbooking per il 2022, e addirittura vendute imbarcazioni che verranno prodotte al 2023. Quindi un Salone Nautico come il nostro, che raggiunge questo risultato, è sicuramente un risultato importante, e ci pone le basi per poter lavorare fino all'edizione 2022. E sempre a Brindisi si è svolto un incontro sull'autismo nelle scuole. Davide Cucinelli. Comprendere le dinamiche comportamentali dell'autismo per accompagnare questi ragazzi nel loro percorso di studio, partendo dalla formazione del mondo docente, con il corso denominato Autismo L'ABA Entra in classe, realizzato in collaborazione con l'associazione APS Coloriamo il mondo di Mesagni e l'AS di Brindisi, presentato presso il presso Kennedy del Comprensivo Casale. È una delle prime iniziative di collaborazione tra enti e tra istituzioni. Il fine è il benessere dei nostri ragazzi, per fare in modo che anche e soprattutto i bambini con dei bisogni educativi speciali possano trovare la loro dimensione all'interno della scuola, attraverso una sinergia tra scuola, famiglia e istituzioni, e una maggiore consapevolezza professionale da parte del corpo docente. L'amministrazione comunale è molto attenta al discorso della disabilità, tanto è vero che garantiamo un servizio di integrazione scolastica, ci preoccupano un po' i numeri perché in effetti proprio quelli sull'autismo li vediamo in crescita, quindi ben vengano di queste iniziative, ben venga la rete, la sinergia che si crea. L'obiettivo principale del nostro progetto è fornire non solo una formazione di tipo accademico, ma proprio gli strumenti per capire, per gestire meglio quello che è l'autismo in classe e anche una chiave di lettura differente di quelli che possono essere i comportamenti che i nostri ragazzi possono mettere in atto in situazioni particolari. Ed ora le flash news da Brindisi e Provincia. Presentato a Francavilla Fontana un progetto da oltre 3 milioni di euro. I lavori che interesseranno il prezzo della Scuola Media San Francesco consisteranno nell'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche nell'efficientamento energetico e nella rigenerazione degli spazi esterni. Il sindaco Antonio Denuzzo ha incontrato studenti, genitori e docenti del Terzo Istituto Comprensivo per svelare i dettagli del progetto da 3 milioni di euro, che a breve cambierà il volto del prezzo San Francesco. Mesagne si schiera contro ogni forma di discriminazione. Il Comune aderisce alla rete italiana delle regioni, province autonome e denti locali per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Per spiegare le ragioni della scelta di partecipazione all'iniziativa nazionale, nei giorni scorsi presso la sede del municipio è stata organizzata una conferenza stampa. Sono intervenuti il sindaco Antonio Mattarelli, il consulente comunale alle pari opportunità Antonio Calabrese, il presidente della commissione pari opportunità Anna Rita Pinto. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne torna a Francavilla Fontana non una di meno, una rassegna di eventi promossa dalla commissione pari opportunità. In Italia, spiega la presidente della commissione Tiziana Fino, più di una donna su tre ha subito nella sua vita delle forme di violenza. Con queste iniziative ci proponiamo di dare voce ad alcune storie utilizzando i linguaggi dell'arte, del teatro e dello sport. La rassegna si aprirà domenica 21 alle 18.30 a Castello Imperiali, con l'inaugurazione della mostra contro la violenza a cura delle studentesse, degli studenti, delle quinte classi, dei tre istituti comprensivi. A seguire si terrà il convegno L'amore non colpisce in faccia mai, con gli interventi del sindaco Antonio Denuzzo, dell'assessore Sergio Tatarano, del presidente dell'ambito Giuseppe Beranova, del direttore dell'ambito Gianluca Budano e della coordinatrice del centro antiviolenza ricominciamo Francesca Caffarella, modererà Maria Rosaria Passaro. Ci spostiamo ora nella Salento, dove si preparano alla battaglia gli operatori della Sib, che si sono riuniti alla Camera di Commercio di Lecce. La decisione che dal 2024 cambierà il volto alla gestione del Demanio sta facendo ancora discutere e soprattutto mette in bilico la posizione di tanti imprenditori di questo settore. Non solo le spiagge nell'occhio del ciclone, ma tutte quelle attività che ricadono sul Demanio, ristoranti, alberghe, strutture ricettive. Veramente un cambiamento epocale. Di questo si è discusso nel corso dell'incontro, che si è tenuto a Lecce, presso la Camera di Commercio e che ha coinvolto tutte le persone interessate, gli imprenditori del settore balneare del Salento. La politica deve muoversi. Il Consiglio di Stato la sua l'ha detta. Adesso sono i politici che devono reciferare e fare una normativa per gli stabilimenti balneari. Quali sono le prospettive? Non solo per la prossima stagione, ma per quelle future, per tanti imprenditori seduti qui oggi che rischiano a vedere la loro attività decennale andare via e sparire in un attimo. Oggi non c'è nessuna prospettiva. Oggi c'è una sentenza del Consiglio di Stato molto, molto, molto discutibile che dice che le concessioni balneari scadono il primo gennaio 2024. Ragione per cui ogni operatore economico, ogni titolare di stabilimento balneare non è messo in condizioni di fare dei programmi al di là di due anni. Il Salento ha centinaia di chilometri di costa, centinaia di attività. qual è la vostra istanza, qual è il vostro pensiero che vi sentite di portare avanti, qual è la richiesta dell'autorità al mondo della politica? Che la politica legiferi, che la politica faccia una mappatura degli stabilimenti balneari per vedere se la Bolkestein veramente trova dei problemi di mancanza di utenza di stabilimenti balneari. Ed ora le notizie in breve dal Salento. Bombe, carta e incendi annardò in carcere il presunto autore dei danni seriali. Il tutto sarebbe partito dalla mano di Cosimo Damiano Prete, 36enne Neretino con diversi precedenti ad arrestarlo gli agenti del commissariato locale che hanno eseguito la misura di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. Tra le accuse mosse nei confronti di Prete, estorsione, detenzione a porto abusivo al luogo pubblico di una bomba carta, danneggiamento a seguito di esplosione, danneggiamento a mezzo incendio eccessione ripetuta di cocaina per un valore di 100.000 euro. Fiamme colpiscono nella notte il furgone di una giovane commerciante. L'episodio si è verificato intorno alle 4 a Cutrofiano per caso è ancora in fase di accertamento ma sulle cui origini di natura dolosa si hanno pochi dubbi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La donna è stata ascoltata dai carabinieri della compagnia di Gallipoli. I militari hanno già individuato le videocamere di sorveglianza installate che serviranno a far luce sull'accaduto. Incidente nella notte nella galleria Condò della tangenziale di Lecce dove un uomo di 33 anni è andato a sbattere ripetutamente contro il guardrail fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Il risultato positivo al test alcolemico gli agenti hanno inoltre riscontrato che il 4 novembre gli era stata contestata la mancata revisione del veicolo. Sono 638 i cittadini positivi presenti in provincia di Lecce sulla base del report settimanale un dato che fotografa ancora una volta la stabilità numerica della situazione epidemiologica delle ultime settimane nei comuni salentini. Degli attuali casi positivi i numeri più alti si registrano a Lecce 182 39 a Ruffano 35 a Galatone 33 a Ugento 23 a Nardò 21 a Matino Era questo il nostro ultimo servizio grazie a tutti per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti.